ma devo prendere i chiodini? no non li prendo i chiodini poi non ce n'è non ce n'è neanche per un po non ce n'è i chiodini ma neanche neanche 30 40 50 kg in un posto solo niente non c'è niente vabbè ringraziamo salvatore la rosa per il video e come sempre iscrivetevi mettete like e condividete il video con i vostri amici